namaste io sono is the brave e bentornati ad un altro episodio di xcom files oggi siamo con il gold crow andiamo direttamente contro il lotto nero vediamo di metterci nella ricognizione perché così facciamo le missioni di giorno e mandiamo pure il gold crow che ha praticamente lo stesso equipaggiamento di prima mi sono accorto di non avere il drone medico però va bene lo stesso vediamo pure di impostare la nostra squadra come sempre magari facciamo un paio di modifiche veloci visto che non ci sono le robe di notte partiamo subito con la missione ok siamo pronti a partire subito 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 vediamo qualcuno vediamo un ninja e vediamo un seguace entrambi uno dobbiamo ricercarlo quindi vediamo pure di partire vediamo quanta gente sono tutti qua vicini vicini lotto nero lotto nero questo forse è diverso dagli altri però direi che possiamo cominciare a colpire questo tre colpi l'ho solo ferito ne vedo anche un altro 1 2 3 4 5 e quello più vicino qua ok fuori 1 il tempo è sufficiente tu hai avresti la possibilità di sparare a questo c'è uno anche relativamente vicino qua e bravo hitman questo è un bersaglio per il nostro cano non l'ho beccato una volta quindi vuol dire che sono molto bravi a schivare il melì loro quindi a questo punto andiamo di direttamente di questo per fortuna non ho ucciso il mio cane che era la cosa che temevo gente vicino non ne vedo quindi direi che spariamo a questo a questo no non possiamo sparare nessun altro tu vieni fuori ti metti qua e giù poi abbiamo un nox che viene qua e provi a sparare prova a sparare a questo ma l'ho preso e poi c'è il nostro agente figo a cui ho messo un'altra arma però dovrebbe bastare lo stesso per fare un po' di casino spara qua spara qua spara qua ce l'hai a morte con quel coso lì ma va benissimo con quel con quel tronco lì ma va benissimo e tu guarda di qua che non si sa mai che arrivi altra gente questo è il fumo e vediamo insomma sembra una missione abbastanza regolare quindi in caso salterò direttamente alla fine ok missione facile facile abbiamo purtroppo beh abbiamo 9 persone che sono arrese abbiamo un po' di esperienza soprattutto in mira molto bene un po' di reazioni tra l'altro volevo vedere fab purtroppo non ha fatto esperienza perché non l'ho potuto usare più di tanto ma bretart che mi fa sia mira che udt che non è niente male cosa abbiamo recuperato? seguaci e lacche che avevamo già tutto questo è il guanto della fiamma che dobbiamo ancora beccare per farlo abbiamo bisogno di ingegneria aliena quindi non è ancora il momento di poterlo ricercare purtroppo sia questo anche se dobbiamo ancora finirlo non ho beccato il prossimo dell'otto nero come si faceva la ricerca qua? c'è un tasto della tastiera l'otto no volevo vedere scusate sotto vediamo se ce la faccio con calma allora intanto qua facciamo vendi ok il caso è chiuso e ritorniamo a casa limite della prigione ok quindi voi vi trasferisco a dume quindi tutti voi e tutti voi ok perché qua non abbiamo la prigione e andiamo un attimo sotto volevo vedere sotto il ricerca in colvi tech 3 eccolo qua di cercare l'otto nero perché effettivamente abbiamo se guaccio e lacchero ci manca il guerriero l'assassino la strega il mandarino e l'avatar quindi tante piccole cose che vedremo un piccolo spoiler ma neanche troppo pesante vediamo pure di andare avanti non abbiamo altre robe interessanti abbiamo la fine del mese questo si 1597 il punteggio di questo mese abbiamo un milione tutti contenti come sempre quindi niente male cosa facciamo di bello con questo milione allora potremmo prendere più spazio per la roba che c'è qua potremmo costruire sto pensando effettivamente cosa potenziare potenziamo questo facciamo un'altra officina se facessimo un'altra quanto spazio ho in questo momento perché effettivamente qua ho cambiato un po' le cose ho messo in produzione un po' di roba come potete vedere il drone medico i fucili chimici e i completi quindi spenderemo un po' di soldi con questo abbiamo ancora 24 ingegneri disponibili ma non abbiamo lo spazio d'officina quindi abbiamo bisogno di un'altra officina quindi questo facciamo control click e la spostiamo qua ok ho speso soldi per fare questa cosa e costruiamo un'officina da mettere qua sopra ok per adesso abbiamo fatto abbiamo un altro van posto il culto sempre dell'otto nero eh si questa volta un van posto vabbè faremo anche questa missione qua sempre con il gold crow visto che siamo già a posto o andiamo con red eagle red eagle è un po' che non lo uso quindi vediamo di impostare lui perché effettivamente non ha ancora nessuno eh ci mettiamo andiamo in ordine di missioni ci mettiamo schiaffi uno due tre quattro cinque sei facciamo e facciamo eh greco gatto e mark grady se tu sei nuovo non mi ricordo se hai un nome tuo fatti sentire nei commenti greco gatto credo sia relativamente nuovo e teniamo intanto lui e ci mettiamo pepox come come ordine e adesso vediamo un attimo di sistemarvi e vediamo di andare direttamente a fare la missione tu vai in terza fila e tu vai in quarta fila quarta posizione tu sei il nostro drone medico tu sei il nostro cane col duratread e tu sei i nostri con tu scudo tu scudo e voi con il colpetto corazzato perfetto gli armamenti direi che sono già tutti a posto possiamo portarci comunque una pistola chimica secondo me ci sta faccio un controllo veloce ma credo beh qualcosina in più di granate direi che ci stanno magari portiamo due di questi per il resto dovrei essere abbastanza ben equipaggiato gli arasaka ce n'è uno solo purtroppo devo cominciare a usare qualcosina di più andiamo pure con redigola a fare questa missione allora purtroppo sarà di notte quindi conviene eh ancora lotto nero ne ho fatte due di seguito quindi mandiamo di nuovo il gold crow anche qua e prima di mandarlo vorrei controllare che ci fossero tutti perfetto perché hanno fatto una missione molto semplice quindi mandiamo anche il gold crow di qua crow o crow dir si voglia però vorrei farle di giorno entrambi perché dovremmo essere anche abbastanza a posto QG di alba rossa lo ignoriamo anzi sapete che vi dico facciamo una cosa perché effettivamente ho voluto controllare bene la cosa a quanto pare l'ultima missione che ci manca in realtà possiamo possiamo sistemarla più avanti quindi andiamo a terminare alba rossa finalmente quindi qua dobbiamo aspettare il QG di alba rossa mi viene segnalato la allora tu red eagle vai qua e tu gold crow vai qua in quel di brisbane darwin cosa c'è là sopra iniziamo dal gold crow siete già equipaggiati quindi direi di farvi partire subito e vediamo cosa troviamo a questo giro allora così magari riusciamo ad arrestare finalmente qualcuno vediamo subito ok cominciano cominciano bene in un covo non dovrebbero esserci grossi problemi nel senso che non dovrebbero esserci le streghe che sono quel personaggio di quarto quinto livello ma vediamo se ce la facciamo beccare lo stesso tremate le streghe le streghe sono tornate siamo nell'angolino della mappa quindi non mi preoccupo più di tanto ce n'è uno là la mappa è molto ampia quindi dovremmo essere tranquilli ok ce l'abbiamo fatta abbiamo ucciso tutti abbiamo fatto un po' di esperienza ma non troppa c'erano solo però cose abbastanza semplici abbiamo la cassa di esplosivi semplici queste robe qua delle casse devo cominciare a aprirne qualcuno abbiamo bisogno di un po' sistemarle allora qua quindi compriamo le granate incendiarie perché sono già finite abbiamo finito lo spazio del magazzino addirittura quindi effettivamente dovremmo cominciare a produrre un po' di casse perché non posso più farle adesso ah perché devo ricercarle prima è vero perché c'è anche tutta la roba che devo ricercarle aprirle eccetera eccetera quindi è un po' più difficile del previsto quindi magari mettiamo un po' di gente ad aprire box di munizioni box d'armi cassa semplice e questo lo teniamo sul laboratorio scientifico idem con patate magari qua sopra laboratorio scientifico ho spazio non ho spazio niente quindi andiamo a fare anche l'altra missione con il red eagle vediamo questa volta di equipaggiare dovremmo essere anche abbastanza forse anche troppo ben equipaggiati magari alessandro sforza lo equipaggiamo cosa gli mettiamo di bello lui gli mettiamo una build così via questo via questo che a te non serve beh in realtà voi avete questo quindi devo rifare tutto quanto vabbè facciamo veloci ok siamo pronti a partire con la squadra organizzata abbastanza bene direi abbiamo messo una bomba fumogena perché non so quanta effettivamente gente ci possa essere in questa missione sembra abbastanza grande come posticino quindi magari qualche strega la troviamo quindi vediamo intanto di andare giù di qua per esplorare velocemente l'aria potrebbe nascondersi qualcuno là dentro direi di cominciare il ninja che abbiamo trovato è qua Rescraven perché non è niente in mano mi sono dimenticato di occupare il Rescraven bene ottimo e bravo cane qui c'è l'entrata Rescraven lo spostiamo qua e ti mettiamo su la rasaka con qualche colpo aggiuntivo agente schiaffi viene qua Greco gli ho messo la pistola perché non ha è una recluta proprio recluta del tutto rucchi rucchi come potete vedere dalla R recluta Greco Gatto c'ha 20 c'ha la forza 24 quindi non può portare praticamente nulla e a te ho messo le granate quasi quasi magari becchiamo qualcosa e via arrivano abbiamo lanciagranate con tra l'altro le granate anche flash per poter prendere qualcuno ok cominciano a uccidersi tra di loro bene e vi faccio vedere se succede qualcosa di interessante attenzione con la bomba oh oh c'è una bomba sul cane bene 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 ce l'abbiamo fatta nemici uccisi 21 nemici catturati 2 nemici user resi 3 artefatti recuperati 1 e operatori xcom uccisi 1 perché purtroppo per l'ennesima volta c'è morto un wrestler questa volta the ultimate warrior è morto abbiamo un rest raven che si fa 10 di coraggio ancora un po' di mira per honey che effettivamente lei serviva così come agente schiaffi qualcosa di tiro per pepox che ha usato se non mi ricordo male ha usato no pepox ha tirato sì perché ha lanciato qualche granata quella e torniamo a casa con la strega dell'otto nero che finalmente sono riuscito ad acciuffare il cappio l'abbiamo già ricercato non l'abbiamo ancora mai ricercato il cappio ah interessante allora portiamocelo pure via un po' di box ma soprattutto l'assassino che lo dobbiamo ancora ricercare e la strega la che l'abbiamo già visto e cominciamo ad andare dentro abbiamo anche questo abbiamo anche un ganto della fiamma quindi molto molto interessante torniamo pure a casa con un po' di roba e voi dovete essere trasferiti al dume quindi seguaci questo 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 perfetto e vediamo di andare avanti abbiamo il caricatore della sacca l'esplosivo potente bandoliere smg e granate fumogene vediamo un attimo bandoliere metriatrice rasacca ultimate warrior ci lascia quindi qua dobbiamo comprare bandoliere per metriatore che dov'è metriatrice pesante già mi sono perso granate fumogene poi mitragliatrice black ops bandoliere per mitragliatrice prendiamone un po' poi c'era le munizioni della rasaca perfetto la rasaca non posso ancora effettivamente comprarlo e e e una quarta roba che non mi ricordo più che cos'era però va benissimo anche così per adesso bene 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 produci no non posso produrre devo ricercarle effettivamente queste cose cappio eccetera eccetera roba che abbiamo ancora magari trasferiamo anche al cern il cappio a sto punto e i documenti segreti no documenti segreti bisogna trasferirli dall'altra parte ma il cappio lo trasferiamo di là ok e da agdi trasferiamo al dume anche i documenti segreti che è la nostra base per fare un po' di ricerca da questo punto di vista e andiamo avanti e andiamo avanti ancora andiamo avanti ancora box di munizioni ok contenitorio di munizioni grazie qui possiamo ricercare ancora il laboratorio scientifico apriamolo questo box box di munizioni ne abbiamo ben sei quindi cominciamo ad aprirle poi vediamo il resto box d'armi e cassa di esplosivi semplici che questa scatola contiene alcuni esplosivi di solito per uso civile o obsoleti quindi queste ce le abbiamo andiamo pure avanti abbiamo finito questo apriamo anche le munizioni quindi se adesso andiamo a vedere ad agdi stiamo no ad agdi no dov'è che stiamo producendo sta roba qua quindi posso vedere se c'è qualcosa di utile un'altra fumogena guanto della fiamma uno lo possiamo uno l'abbiamo trovato mi sa e uno l'abbiamo recuperato adesso lo vendiamo pure Mitra Thompson questo è il nuovo o lo conosciamo già o ci ho cambiato nome io no questo è proprio nuovo quindi abbiamo delle armi che scopriamo nuove in questa maniera e quindi abbiamo infatti il Mitra Thompson che mettiamo qua togliamo uno da qua e mettiamo pure qua è il Tommy Gun è la mitraillatrice insomma quella più più semplice di tutti il cappio è arrivato perfetto sono arrivati i seguaci da quella parte andiamo pure avanti i caricatori ottimo continuiamo a tirar fuori robe da qua e facciamo anche gli esplosivi mettiamo un po' di gente al lavoro su queste cose e andiamo un attimo a vedere anche se abbiamo recuperato munizioni di che tipo caricatore munizioni sto vedendo un attimo se c'è qualcosa di nuovo munizioni G11 questo non abbiamo mai visto tamburo Mitra Thompson Makarov Glock vabbè tutto il resto non mi interessa più di tanto anzi vendiamo no quello dal taser no ma questo 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 e il tamburo della 44 magnum non mi interessa a questo punto vendiamo anche il clutch e anche la roba dell'uzzi e anche la roba dell'hmp5 ma anche ste robe dell'axo quasi quasi no intanto andiamo così abbiamo finito anche questo perfetto altra roba disponibile niente ottimo quindi vediamo anche gli esplosivi se abbiamo recuperato qualcosa credo un po' di granate varie flashbang e cose così mi sa niente di specifico quindi andiamo avanti ancora gruppo alieno interessante interessante siamo ancora dentro tranquillamente la puntata facciamo una salvata veloce sull'episodio 46 sì siamo già all'episodio 46 perfetto e andiamo col blue falcon o andiamo direttamente con il black oak che in questo momento ha un sacco di feriti però abbiamo anche il capitano agenti veterani abbiamo un po' di gente da questa parte quindi sì facciamola da qua ordiniamo per missioni questa mi sa che è una missione abbastanza difficile quindi ci mettiamo i bichi Sally Mustang Soldato X Alexander Bjornsson Gabriele Enrico Franco Tutitore Kim Inwo che è un po' che non vedevamo e ci portiamo The Rock quindi niente cani ma vediamo un po' cosa riusciamo a fare contro gli alieni gruppo alieno The Rock mettiamolo in prima posizione e vediamo un po' cosa riusciamo a fare cosa abbiamo a disposizione abbiamo le tute hazmat le tute bio exo cosa dà effettivamente la tuta bio exo dà un danno una protezione al danno chimico tagliente stordisci concussione e incendiario mettiamo allora vabbè facciamo così mettiamo voi due dietro i bicchi e Sally davanti qua abbiamo un sacco di box e robe varie quindi cerchiamo un attimo di reimpostare le cose le granate le portiamo portiamo tutta la roba per far danno mi sa fare parecchio danno sarà una missione abbastanza difficile mi sa vedremo 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 gli altri li mettiamo con facciamo così che faccio prima bio exo e bio exo tu sei un ricognitore non posso metterti l'altra perché mi è morto il tipo e qua mettiamo gli scudi corazzati senza lo scudo scusate e qua abbiamo bisogno anche di acquistare no qua no unità base unità eccolo qua abbiamo un altro wrestler da sistemare e come armamenti abbiamo detto che eravamo a posto quindi mandiamo il black hawk direttamente qua pioniere di alba rossa ilia dolvich specialista mercenario dopo il crollo dell'unione sovietica ilia e la sua famiglia si sono affidati all'assegnazione di incarichi come freelance parte dell'eredità militare orgogliosa che risale l'armata rossa questo ex soldato si sta ritagliando un nome nei circoli mercenari come forza da non sottovalutare classicamente addestrato in sotterfugie e tattiche di quegli guerriglia non è strano agli orrori della guerra a disposizione ci sono delle note scritte in cirillico che qualcuno di voi magari riuscirà anche a tradurre qui continuiamo cosa abbiamo a disposizione tutto abbiamo a disposizione quindi io direi di cominciare a sto punto a scartabellare un po' di gente del lotto nero allora seguace del lotto nero assassino del lotto nero lacchè del lotto nero allora cominciamo assassino del lotto nero e qua dal canone leggero togliamo un po' di gente e facciamo che tu ti prendi una strega e il seguace l'abbiamo già beccato almeno uno e vediamo anche degli altri a sto punto sostenitore di dagon l'abbiamo beccato il discepolo si il sacerdote non ancora e neanche il prescelto che avevamo beccato abbiamo avuto la fortuna di beccare in un'unica missione quindi cominciamo a vedere anche le altre cose e salviamo velocemente prima di fare questa missione che non si sa mai che succede al disastro abbiamo ricevuto un rapporto su quello che sembra essere un piccolo gruppo da caccia composto da alieni dovremmo investigare e contenere questi strani visitatori per interrompere la missione riporta e previ interrompi missione allora voi due dovreste essere già a posto così to the rock ok suolato x va bene questa non ti serve quindi magari mettiamo una roba esplosiva tu vai bene così tu vai bene così secondo me tu vai bene così e tu vai bene così e vediamo un po' se ci gira giusta un antropode che è un'arma che non ho mai vista in mano questo è un alieno l'antropode credo sia stato modificato e migliorato perché mi ricordo un po' molto più brutto questo è un alieno di xcom apocalypse che è il terzo gioco uscito appunto dopo xcom enemy unknown o ufo defense in realtà il gioco originale e terror of the deep hanno fatto apocalypse che è un gioco che molti odiano ma qualcuno ama io ci ho giocato poco non sono riuscito mai a finirlo e questo è uno degli alieni che trovate in quella situazione lì vediamo se riusciamo a buttarlo giù proviamoci au mi ha fatto malissimo ok però si possono uccidere bravo sally dobbiamo curarti però sally c'è qualcuno di voi che ha le cure c'è perfetto anche tu ok c'è una urca cosa ha in mano questo un cannone carnoso di qualche tipo qua mi sa che dobbiamo usare le armi pesanti contro questi tu intanto stai qua metti posizione tu vieni qua fuori e mi colpisci questa cosa qua spero non sia un'arma esplosiva quella tu vieni qua sotto tu non hai bisogno di questo e vieni qua chissà che tipi di alieni ci aspettano ancora e tu non ti serve questo questa metterla sulla spalla e vieni qua sotto e tu che sei il nostro scout vieni qua fuori ok ne vedo un altro che è nascosto qua questo c'è un'altra arma esplosiva mi sa oh oh mamma mia c'è un'arma esplosiva si allora tu hai possibilità di beccare questo ottimo vabbè ci ho provato a colpire così lontano ma va bene lo stesso qua controlliamo qua dentro ok sono piuttosto deboli per fortuna ma finalmente dopo 40 erotti episodi troviamo una bella missione con un po' di alieni non uno solo o delle vie di mezzo strane questo c'è un altro fucile sono tutti fucili strani che non ho mai visti mai visto ok e sanguinano anche questi ottimo ottimo molto bene 5 uccisi su 5 artefatti recuperati 7 poca esperienza per i nostri perché erano molto buoni e abbiamo una pistola d'acido il disgregatore pesante dardo d'acido e cadavere antropode allora il disgregatore pesante molto probabilmente è quella specie di cannone carnoso come l'ho chiamato io che è molto molto interessante la pistola d'acido era quella piccola e la pistola grande non l'ho recuperata però ho recuperato i cadaveri quindi molto bene ci valgono un po' di soldi ma non buttiamo via niente di sta roba 107 è soddisfacente la cosa e adesso se vado qua vediamo se possiamo ricercare qualcosa non possiamo ricercare niente di quello che abbiamo trovato quindi trasferiamo allora trasferiamo sta roba al cern devo trasferire il dardo acido ah il dardo acido è un'arma forse e no in teoria la pistola l'acido è un'arma picciotto sostenitore cadavere di antropode questo lo spostiamo altro che avevo trovato non riesco a vederlo vediamolo un attimo con calma questa è tutta roba delle questi documenti segreti li possiamo spostare granata al plasma questa è nuova lancia granate vabbè trasferiamo intanto sta roba qua forse devo aspettare che torni infestazione zombie pure ok questa volta mandiamo un blue falcon così abbiamo tutte e quattro le unità che vanno in giro facciamo un giro 1 2 3 4 5 6 7 8 rick flair no contro questo non serve rick flair serve il cane sakura serve tommaso facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 direi che può andare bene vediamo di mettervi le armature bio exo mi sa che funzionano meglio contro il corpo a corpo mi sembravano giusto perché questa danno cinetico 70 ok mentre queste qua danno concursivo un 90% e danno cinetico un po' di meno però non sparano danno cinetico e da sparo qua possiamo fare così ok e vediamo di mettere un po' di armamenti vari ma credo di essere tranquillo ok allora partiamo subito andiamo pure col blue falcon e facciamo anche questa missione intanto sud qua è tornata vediamo adesso se c'è in giro sta roba se provo a fare trasferisci al cern che magari è roba che non posso vendere ma mi sembra molto strana dove cavolo è finita la nostra roba ah eccolo qua disgradatore pesante non posso trasferirlo al cern quindi qua dobbiamo costruire un magazzino nuovo che cosa 150.000 lo mettiamo qua intanto dobbiamo fare questa missione di infestazione zombie prepariamoci come sempre ok e siamo pronti siamo pronti con 1,2,3,4,5,6,7,8 hanno portato un po' di armi pesanti a conto pare e vediamo anche perché questo è un altro arc che devo portare avanti prima o poi e quindi vediamo di continuare a spaccare ce ne sono già tanti qua vicino cominciamo a sparare come si deve anche a tutti quelli che troviamo oh bene 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 20 uccisi 21 recuperati nemici catturati 4 ben civili uccisi nemici 2 salvati 1 304 un po' di allenamento soprattutto in mira come potete vedere un po' per tutti quindi molto 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 bene questa roba l'abbiamo già vista tutto il cadavere zombie l'abbiamo già studiato zombie grasso no questo no questo no però almeno gli zombie possiamo cominciare a venderli no perché forse è meglio utilizzare utilizzare per estrarre un po' di roba potrebbe anche essere torniamo pure al cern abbiamo tutta la roba qua quindi andiamo un attimo al cern perché possiamo produrre ahà possiamo produrre dagli zombie vivi gli estraiamo roba dagli zombie vivi qua la terminalba rossa è quasi fatto vediamo di finirlo a fine episodio ottimo questo l'abbiamo fatto andiamo pure a produrre altra roba cadaveri zombie perfetto così continuiamo ad estrarre plasma sanguigno che ci sta termina alba rossa ottimo lavoro comandante abbiamo informato le nazioni unite e il presidente della russia della completa agenda di alba rossa e di tutti i dettagli associati questo sarà più che sufficiente per far condannare a lungo tutti i loro ufficiali comandanti in prigione o peggio vorrei poter vedere i loro volti adesso ora possiamo concentrarci sulle cose davvero importanti e possiamo anche vendere qualsiasi keycard di alba rossa di cui non abbiamo più bisogno quindi finalmente ce l'abbiamo fatta direi di fare una ricerca veloce del cappio e giusto per per farlo così siamo tranquilli perfetto il cappio è un pezzo di corda se deve avere in pericolo può essere usato per strangolare le persone non richiede molta abilità ma la forza e la ferrocia sono importanti ed è un'arma in più che possiamo fare tra le mille cose che abbiamo recuperato andiamo avanti con la guerra biologica siamo ancora sconosciuto quanto lunga è questa cosa abbastanza però ci sblocca pistole a dardi quindi possiamo addormentare la gente a distanza se non mi ricordo male con le pistole a dardi che non sarebbe male come cosa niente sul tracker qua tutto sconosciuto abbiamo un laboratorio scientifico a medio dobbiamo accelerare un po' le cose quindi quasi quasi qua possiamo costruire sì forse è meglio che risparmiamo un po' di soldi per costruire le robe più complesse qua come ricerche fatemi vedere biologia zombie grasso cadavere sputatore cadavere antropode cadavere di sectoide sciamidi cose varie dovremmo cominciare a fare un po' di sciamidi e cosucce varie vediamo di aspettare la prossima missione abbiamo finito i soldi per la produzione delle tute quindi adesso sta roba qua mettiamo la tuta di qua e andiamo avanti così guadagniamo qualche soldino è arrivato sapphire nuovo personaggino e vediamo allora abbiamo fatto Rick Flerb ha fatto Bret Hart ci manca Lex Luger il mitico Lex Luger questo si che è americano anche se in realtà è polacco di origine però ci sta lo stesso il drone medico l'abbiamo completato ottimo continuiamo a prendere roba di Duratread che abbiamo bisogno di guadagnare qualche soldino magari ne mettiamo 50 e qua vediamo di accelerare questi terrore dei mostri tante belle missioni questa volta ad Atene e ci vediamo quindi al prossimo episodio dove lo affronteremo questa missione io sono Is The Brake grazie ancora per la visione Namaste e per lì